20 patenti sequestrate in appena poche ore e il risultato del controllo sull'assunzione di alcol e droga della polizia stradale lungo via Chiesa Nuova nella notte tra sabato e domenica. Due i veicoli sequestrati, 11 denunciati per guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il tasso alcolemico più elevato in una ragazza di 22 anni proveniente da un locale del centro 2,18. Un 24enne già positivo all'alcol test per evitare di sottoporsi all'accertamento sull'uso di stupefacenti e fuggito a piedi lasciando sia i documenti che l'automobile nei pressi del controllo di polizia. In molti hanno tentato di evitare il controllo invertendo il senso di marcia ma sono stati tutti bloccati dagli operatori delle volanti.